Nella sede di Via Verdi stamattina ha avuto inizio la seduta del Consiglio Comunale dedicata alla manovra sugli equilibri di bilancio, ovvero la variazione al bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e dal bilancio pluriennale 2011-2013, le conseguenziali variazioni alla relazione previsionale e programmatica, all'elenco annuale dal programma triennale dei lavori pubblici e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e gli equilibri generali di bilancio. La manovra di salvaguardia è uno strumento tecnico che opera sul versante delle entrate e delle spese per confermare la sussistenza delle previsioni del bilancio approvato il 15 luglio scorso. Come ha anticipato l'assessore Arramore Alfonso, si tratta di una manovra di contenimento fondata molto sui tagli e sulla gestione dell'eredità della precedente amministrazione. Particolare attenzione sarà posta dall'Aula alla verifica sui debiti fuori bilancio. Ce ne sono infatti per un volume di circa 30 milioni, ma l'Aggiunta ne propone al Consiglio il riconoscimento e la copertura per soli 23 milioni, costituiti per due terzi da obblighi derivanti da sentenze e per un terzo da debiti assunti dai dirigenti per interventi di importo superiore a 20 mila euro nell'interesse dell'ente. L'amministrazione quindi intende dichiararne inammissibili fra questi ben 7 milioni. L'Aggiunta, sostiene ancora di Alfonso, nei suoi primi mesi di attività si è trovata a dover tamponare molte falle, ma con il bilancio di previsione 2012 verranno intraprese manovre incisive di rafforzamento, di controllo e di analisi della situazione finanziaria e saranno varate ulteriori manovre per consentire all'amministrazione di navigare più speditamente.